È possibile arrivare da 30 dollari a 1000 dollari in soli 3 giorni? Beh, io l'ho fatto, ma come è andata? È stata fortuna oppure bravura? Lo vedremo in questo video. Ciao ragazzi, per chi non mi conoscesse io sono Bramf e in questo canale mi occupo di finanza personale, crescita personale e investimenti. Vi ricordo che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervene nemmeno uno. Poi, se volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto da più persone possibili, lasciate un like. Adesso vi racconto come sono riuscito a passare da 30 dollari a 1000 dollari in soli 3 giorni. Beh, in poche parole ho investito in un progetto, in un altcoin, appena nata. Per la precisione ho investito 4 giorni dal lancio. Ho investito in un progetto che in realtà è una shitcoin. Magari molti di voi non lo sanno, ma adesso vi spiego cosa sono le shitcoin. Le shitcoin sono tutte quelle altcoin che non hanno dei progetti forti alla base. Molte volte non portano nulla di nuovo, non migliorano affatto la tecnologia esistente e altre volte sono proprio delle vere e proprie truffe. Il token in questione è papel. Sì, ho investito in papel, ma vi chiederete perché hai investito in papel se ogni volta ci dici di non investire in questi progetti? Adesso vi spiego perché. La prima motivazione che mi ha portato ad investire è provare. Non ero mai entrato nel mondo delle shitcoin, non sapevo niente e non ho mai comprato una moneta proprio a pochi giorni dal lancio. Volevo provare questa esperienza, magari potevo trarre qualcosa di utile e imparare qualcosa. E così è stato. La seconda motivazione è che vedevo tanto hype. L'unico modo per investire nelle shitcoin e trarre profitto è quello di guardare la community. Se una particolare shitcoin ha una community fortissima o che comunque sta crescendo di giorno in giorno, allora potrebbe aver senso investirci, ovviamente investire sempre ciò che si è disposti a perdere, in quanto sono delle vere e proprie scommesse, alla pari di giocare alle slot machine. Anche se qui hai un po' più di prevedibilità, ma comunque è quello il concetto. Quindi vedevo video su TikTok dove sponsorizzavano papel, vedevo decine di gruppi Telegram dove si parlava solo di papel e ho detto perché no, perché non buttarci quei 30 dollari. Quindi ho comprato la moneta, ho comprato prima dei BNB, dei balance coin. L'ho trasferito sul mio wallet Metamask, poi tramite Metamask su PancakeSwap ho convertito i balance coin in papel. E così ho iniziato a holdarli. Ci sono stati uno o due giorni dove c'è stato uno stallo, sì il prezzo saliva di poco, ma poi scendeva, poi scendeva ancora di più, poi risaliva, ma a un certo punto il prezzo esplose. Da 30 dollari arrivò a 180 dollari, io mi sono svegliato la mattina, che avevo questi 180 dollari e ho detto wow, ma com'è possibile questa cosa? E poi durante il giorno è iniziato ancora a salire, 300, 500, 650, 700. La salita sembrava non fermarsi più. Stavo per vendere, ma poi ho detto no, continuiamo con questo esperimento, voglio vedere fin dove si spinge, voglio vedere se riesce a fare un per cento. Anche perché l'hype era in crescente aumento nei gruppi e tutti ne parlavano. C'erano sempre nuovi partecipanti nel gruppo ufficiale di papel, si stava creando il gruppo papel Italia dove iniziavano ad entrare veramente tantissime persone. Ma a un certo punto il prezzo crollò a picco. Successe il panico. Tantissime persone insultavano coloro che gli hanno consigliato di comprarla. Alcune persone si erano vendute la macchina per comprare tantissimi papel perché pensavano fosse la svolta. Quindi c'era veramente tantissimo casino nei gruppi. Sta succedendo il delirio. Insulti, minacce, nel gruppo ufficiale poi venivano insultati gli admin a più non posso. Venivano chiamati truffatori perché si pensava che quando la moneta è arrivata a un prezzo così alto, gli admin avessero venduto la loro parte di papel per andarsene con il profitto e quindi far finire il progetto lì e far perdere gli investitori. Il prezzo crollò ma comunque era ancora in profitto, cioè da 30 dollari era arrivato a 300. Quindi sì, potevo fare più profitto vendendo a 1000 ma comunque avevo i miei 300 dollari fatti con 30 dollari che comunque è un per 10 onestissimo. Ma quelli che hanno comprato a un prezzo più alto se ne sono pentiti in quanto il prezzo è crollato. Ma quindi gli admin hanno veramente venduto i loro papel per creare tantissimo profitto, per creare milioni di dollari di profitto oppure no? Beh a quanto pare no. Il creatore del progetto, la mente che ci sta dietro, anche chiamato il professore, citazione alla casa di carta, si è palesato e è entrato nel gruppo italiano. A quel punto io mi sto chiedendo ma come? Il professore entra nel gruppo di Papelli Italia? A un certo punto su Telegram si avvia una chat vocale. Io entro e scopro che il professore in realtà era italiano. Adesso non sto qui a dirvi i dettagli di chi fosse il professore perché magari ancora non l'ha reso pubblico e mi pare avesse detto anche di non divulgarlo. Quindi per rispetto facciamo sì che l'anonimato resti. Ma quando iniziò a parlare mi sentì subito gasato in quanto questo progetto ci ho investito solo per divertimento e per passare questi momenti e vedere come va nei gruppi. Fare un attimo un esperimento e vedere cosa potessi imparare da questo. Comunque il professore iniziò a parlare e spiegò tutto l'accaduto. Anche le persone che gridavano allo scam dopo che il professore ha parlato si sono un attimo ricredute. Poi nei vari gruppi venivano date delle spiegazioni grazie appunto alle spiegazioni che diede il professore. E così venne instaurata di nuovo una certa fiducia nel progetto. Quindi anche io decisi di non vendere a 300. Volevo vedere come andava anche perché il professore aveva annunciato che da lì a poco la moneta doveva essere listata su degli exchange importanti. Quindi il prezzo sarebbe salito sicuramente. Quindi inizieranno di nuovo a ritornare investitori importanti anche se c'erano ancora delle persone che non credevano più al progetto e che gridavano allo scam. Nei giorni successivi guardai i gruppi ma marginalmente anche perché avevo tanto altro da fare. Come vedete sto creando un contenuto al giorno ed è davvero stancante. Ma più che altro impegnativo perché comunque mi piace creare un contenuto al giorno. E quindi non diedi tanta importanza a papel però vedevo dal twitter che veniva listata su exchange vari per esempio bitmart. E quindi dicevo stanno andando avanti forse arriveranno a un buon punto anche se alla base del progetto non c'è un'idea innovativa. Diciamo l'unica cosa per la quale papel si mantiene è la community. Se viene a mancare la community papel cesserà di esistere. Quindi alla fine com'è andata con papel? Cosa ho fatto? Ho venduto? Gli sto ancora holdando? Qual è la lezione che ho tratto da questa storia? Allora innanzitutto ci tenevo di nuovo a precisare di investire in questi progetti soltanto quello che si è disposti a perdere. È solo per divertimento. Non sono degli investimenti oculati. Non c'è ricerca dietro. Non potete fare dell'analisi in quanto le informazioni che abbiamo sono veramente poche. Nessuno può prevedere cosa accadrà a una certa moneta in un certo periodo di tempo. E quindi va presa come un gioco. Magari stare con la community. Leggere i messaggi. Vedere cosa dicono gli admin. Divertirsi insomma. Non dovete vederlo come uno stress stare 24 su 24 e guardare le vostre monete. Oh sta salendo. Ora sta scendendo. Che devo fare? Devo vendere? Poi un'altra cosa. Se non sapete nemmeno come usare PancakeSwap. E ce ne sono veramente tantissimi nei gruppi Telegram. Che non sanno nemmeno che cos'è lo sleep page. Non investite. Prima informatevi su PancakeSwap. Su come funziona Metamask. Trust Wallet. E poi investite. Non sapendo cosa fare. Come comprare. Come vendere. Non riuscirete nemmeno a uscire dall'investimento quando vorrete. Magari perché non avete i Binance Coin sufficienti per pagare le commissioni. Quindi dovete sapere un po' come funziona questo mondo per poter investirci. Se lo prendete come un divertimento o qualcosa di intrattenente. Allora sarà un ottimo investimento anche perché vi porterà delle piccole gioie. E anche se il prezzo scende ci riderete su. Magari anche leggendo i messaggi sui gruppi Telegram. E vedendo cosa succede un po' in giro. Ma quindi cosa ho fatto con i miei papel? Circa 280 dollari 300 li ho venduti. Ma li ho venduti per reinvestirli in un altro altcoin su cui ci ho fatto un video. Che potete trovare qui sopra. Ovviamente sono partito con un budget di 30 dollari. Adesso ne ho 300. E cercherò tramite le shitcoin o comunque altcoin che stanno appena per nascere. Di trarre maggiore profitto però con tantissimo rischio. È un po' un esperimento che voglio fare. Quanto riesco ad arrivare con 30 dollari investendo in progetti appena nati. Quindi farò video per aggiornarvi su questa questione. E vedremo come andrà. Quindi ragazzi state attenti. Vi ricordo ancora una volta che questi progetti sono rischiosissimi. Se non sapete quello che state facendo non investiteci. Vi ricordo ancora una volta che ogni giorno alle 13 su questo canale esce un nuovo video. Quindi iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche. E quindi non perdervi nessun video. Se volete supportare il mio duro lavoro e far sì che questo video venga visto a più persone possibili. Lasciate un like. Se siete arrivati fino a questo punto del video commentate con questo. E noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video.